Pianeta Lecce Non di calcio giocato Francesco Mercoledì chiuderà il calciomercato Quindi per noi questa è l'ultima puntata Forse giovedì ne faremo un'altra Se Meluso riserverà delle sorprese Francesco cominciamo a parlare dei nuovi arrivi Ultimamente il Lecce si è arricchito di due giocatori Uno a centrocampo e uno in difesa Sì, sono arrivati due giocatori richiesti espressamente Uno lo voleva Pasquale Padalino E parliamo di Mirko Drudi Difensore del Sant'Arcangelo È un giocatore che ha delle caratteristiche Diciamo così simili a Giosa Perché è un giocatore che piace impostare Quindi nelle idee di Pasquale Padalino Sarà il sostituto naturale di Giosa Mentre invece è arrivato a centrocampo Il bulgaro Zonev Ne avevamo parlato già nell'ultima puntata Dovevamo soltanto capire chi fosse Insomma, avevamo capito che era un bulgaro Ma poi il nome è uscito col passare delle ore E Zonev, un giocatore che piace molto a Meluso È una scommessa di Meluso Il Lecce ha fatto un investimento importante sul ragazzo Tant'è che l'ingaggio è veramente, diciamo così Fuori dai canoni della Lega Pro C'è un discorso anche di premio preparazione Con Levski di Sofia È stato trovato un accordo tra i due club Quindi Zonev sarà il vice a Rigoni Ma la sensazione è che da quello che filtra Che potrebbe prendere il posto di qualcuno No, non che potrebbe prendere Ma che comunque il posto da regista davanti alla difesa Se lo gioca tranquillamente alla pari con a Rigoni Beh, sicuramente si gioca un posto in spiaggia Abbiamo visto che appena arrivato Zonev sta già imparando le zone Le nostre zone di spiaggia, di mare Forse la Torre dell'Orso, Francesco Non ne sono molto sicuro Quindi, due arrivi Potrebbe arrivare qualcuno Che possa dare del filo da torcere a Caturano, Francesco? Allora, ad oggi il Lecce dice stop Al mercato in entrata Non ci saranno ulteriori operazioni di mercato Tutti pensavano che potesse arrivare un vice Caturano Ma da quello che Padalino ha visto In questi ultimi allenamenti Ha fatto capire alla società Che il vice Capo Turano potrebbe essere tranquillamente Anche Torromino Il Lecce non interverrà Quindi ci si ferma così Salvo clamorosi proprio affari Dell'ultima ora al 31 di agosto Però possiamo dire tranquillamente Che al momento non arriverà alcun vice Capo Turano Abbiamo parlato nella scorsa puntata di Abdou Dumbia Ha rinnovato il contratto O rinnoverà il contratto, Francesco Ci darai tu delle lucidazioni in merito Comunque Dumbia è da ritenere a tutti gli effetti Un calciatore della Rosa del Lecce A disposizione di Padalino Una delle pedine più importanti A disposizione dalla tre quarti in su Per il nuovo tecnico foggiano Ne avevamo parlato nell'ultima puntata C'era praticamente una bozza di trattativa Che col passare dei giorni è diventata sempre più concreta C'è stato un incontro Proprio due giorni fa Tra il giocatore e il suo agente E la società giallorossa C'è la volontà di entrambe le parti Di proseguire il rapporto Dumbia ha fatto capire la dirigenza giallorossa Che tiene veramente molto a restare qui in giallorosso Si trova molto bene con Pasquale Padalino Ha fatto capire anche a Meluso Che il modo di fare, il modo di giocare di Padalino Si adatta alle sue caratteristiche Quindi possiamo dire tranquillamente che Dumbia È un nuovo acquisto del Lecce Anche perché poi se andiamo a riflettere E se andiamo ad analizzare bene le corsie esterne offensive Il Lecce si trova dalla parte Pacilli e Vutov E dall'altra parte, ovvero sia quella sinistra Torromino-Dumbia Chi non li vorrebbe insomma in squadra? No ma è importante sapere che abbiamo ritrovato Psicologicamente un giocatore importante come Dumbia Dalle caratteristiche certamente inusuali Per un esterno d'attacco in Lega Pro Quindi voglio dire è uno sicuramente che potrebbe fare la differenza Nello scacchiere d'attico di Padalino Adesso diciamo che tocca alla piazza Cercare di ammorbidire un po' la situazione Sappiamo che ci sono stati un po' di attriti Nell'ultima parte del campionato scorso Si spera insomma che... Le vacanze Francesco avranno sicuramente attenuato Il livore nei confronti del calciatore Mercato Francesco in uscita Ci sono dei calciatori come Della Rocca, Lobue Vineto, Camisa Qual è la situazione? Allora per quanto riguarda il mercato in uscita Il Lecce ha un bel po' di problemi Nel senso che per quanto riguarda Lobue e Della Rocca Si sta valutando in questi ultimi giorni L'ipotesi di risoluzione del contratto I giocatori sono entrambi sia Della Rocca che Lobue infortunati Si sta cercando insomma di venirsi incontro E quindi non è scluso che nei prossimi giorni Ci possa essere una risoluzione del contratto per entrambi Per quanto riguarda invece il discorso di Vineto Invece Vineto potrebbe clamorosamente restare in giallorosso Per tutta l'estate era stato messo sul mercato da Mauro Meluso Ma con il passare del tempo Pasquale Padalino lo ha valutato E ha ritenuto opportuno di poterlo avere a disposizione per il prossimo campionato Il problema con Vineto qual è? E' l'ingaggio Allora a questo punto le parti si dovranno incontrare Per provare a trovare un accordo E quindi spalmare l'ingaggio di Vineto Che ricordiamo al momento percepisce 90.000 euro netti a stagione Benedica Benedica Poi c'è il discorso di Eric Herrera Un'operazione che il Lecce porterà in porto al 90% con la Paganese Il ragazzo si sta allenando a Pagani Viene ogni tanto nel Salento per farsi diciamo così curare Perché viene da un brutto infortunio La sensazione è che il 31 di agosto l'operazione con la Paganese verrà poi praticamente chiusa La Paganese lo sta valutando in sostanza Sta valutando l'infortunio Sì Francesco le nostre domande sono finite Adesso vediamo cosa ci chiedono i nostri utenti Abbiamo lanciato un breve sondaggio su Pianeta Lecce In mattinata vi abbiamo chiesto se avete delle informazioni o delle domande da porci Roberto Pugliegli scrive Secondo voi quanto è importante avere un degno sostituto di Caturano E se verrà chi? Ne abbiamo parlato del possibile sostituto o del mercato chiuso rispetto all'attacco Però quanto è importante avere un sostituto per una punta centrale? A mio modo di vedere Padalino si sta prendendo una grossa responsabilità Nel senso che ricordiamo che sì Torromino può giocare da punta centrale ma in realtà non lo è una punta centrale Quindi corne facendo nel corso di una stagione può capitare di tutto E se Torromino può garantire una o due partite da punta centrale bisogna poi vedere che tipo di partite poi ti va a fare Diciamo che Francesco da qui a gennaio solo facendo gli scongiuri un brutto infortunio di Caturano potrebbe compromettere la situazione Perché poi una squalifica o un lieve infortunio quindi saltare una partita significa adattare Torromino Ha già giocato Dumbia in quel ruolo potrebbe giocare anche Vutofo perché la fisicità c'è tutta Quindi diciamo potrebbe non essere un problema avere un vice Caturano nel senso stretto della parola Anche se analizzando freddamente la rosa in effetti manca una punta centrale di ruolo Giorgio Pagano poi ci chiede, ci fa una domanda a cui abbiamo già risposto Lui ci scrive chi verrà ceduto ancora? Ne abbiamo già parlato, il mercato pressoché è concluso Sì, nelle ultime ore c'è da registrare, è un'operazione minore però comunque da evidenziarla Quella del passaggio di Andrea Morello al Nardò in prestito secco Poi c'è stata la risoluzione in settimana di Alessandro Carrozza Quindi l'unico nodo da sciogliere è quello di Alessandro Camisa Che al momento sta rifiutando tutte le proposte che sono arrivate in casa giallorossa Proposte del tipo del Siracusa, della Pistoiese Nelle scorse ore si era addirittura provato, il Lecce aveva provato addirittura A proporre uno scambio col Sant'Arcangelo, Dru di Camisa Ma diciamola tutta, sì, con tutto il rispetto per il Sant'Arcangelo Ma Camisa da ex capitano del Vicenza e capitano del Varese Camisa ricordiamolo che due anni fa giocava in Serie B da capitano a Vicenza Accettare Sant'Arcangelo Forza per una vacanza La nostra puntata si conclude qui Prima volevamo dare una piccola anticipazione Francesco Venerdì prossimo non ci sarà PL Mercato Ma ci sarà un altro appuntamento Che proveremo a confermare tutti i venerdì E sarà un'anteprima della partita che il Lecce andrà a disputare Di volta in volta in campionato Diciamo che è un appuntamento non sicuro Perché come non lo è sicuro Marco Marini No, infatti volevo annunciare che nella puntata Nella puntata dovrebbe esserci Marco Marini Perché è quello che tra tutti noi ne capisce di calcio Noi non capiamo niente Francesco Tu ne capisci di calcio mercato Io a stenti riesco a scrivere due parole consecutive Però l'assenza di Marco Marini è pesante Ci siamo fatti tutta l'estate senza di lui L'abbiamo cominciata con lui questa trasmissione Sicuramente troveremo Marco Marini bianco, cataverico Non ha preso un briciolo di sole Perché il sole riflette sulla pelata Comunque Francesco basta insultare Marco Marini Ci vediamo, ci vediamo quindi venerdì prossimo La puntata di oggi finisce così malinconicamente Adesso pensiamo al Monopoli Perché adesso inizia il bello Ci divertiamo Monopoli Lecce da domenica Alla prossima Dovevo chiudere io Alla prossima